Questo compadre Pio è fantastico perché lui appunto arriva lì a San Giovanni Rotondo, va ad ascoltare la messa e poi ovviamente cerca un incontro con compadre Pio. Cerca un incontro con compadre Pio, come tanti lo cercavano, per avere una benedizione da lui. Allora si incontrano e padre Pio lo guarda e gli dice, lo anticipa quasi, e gli dice benedicimi. Naturalmente Don Pietro, che è un giovanissimo prete, rimane stupido, ha detto come, ma io devo benedire te, cioè tu sei padre Pio, insomma, io sono qui per essere benedetto da te. E padre Pio insiste con i suoi modi, insomma, lo conosciamo, come erano, insomma, molto forti, molto irruenti, e insiste benedicimi, benedicimi, e capendo però che insomma questo povero giovane prete era anche un pochettino timoroso, e gli dici, tu non sei più, lo dice ovviamente in dialetto, ma tu non sei più un ragazzino, tu sei un prete, tu sei un sacerdote, e quindi sei tu che mi devi benedire.